Impegnato con il suo Jova Beach Party, il buon Giovanotti è, ripeto, molto impegnato Tuttavia il famoso cantante italiano farà ballare quest'estate il suo pubblico nelle più belle spiagge d'Italia Tuttavia a due mesi di distanza dal debutto dell'evento che lo vedrà protagonista a Lignano Sabbiadoro Vi ricordo che è disponibile già da qualche giorno di tempo il Jova Beach App Un'applicazione completamente gratis, gratuita, non ha costi di sorta Disponibile sia per Android che per iOS, il sistema operativo per gli iPhone Creata appositamente per andare a rispondere a tutte le domande relative alle tappe del tour in questione Che dal prossimo 6 di luglio 2019 si sposterà in ben 15 spiagge d'Italia Per dare, per fornire i molteplici aggiornamenti sull'evento Dal momento del debutto sulla Jova Beach App È presente la Jova Beach Radio Powered by Radio Italia Un nuovo canale di musica italiana scelta da Lorenzo Giovanotti Con diversi programmi registrati e macchine in diretta Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione e il video termina qua Iscrivetevi e commentate al prossimo da narratore italiano Grazie a tutti